Ciao a tutti io sono Frico e bentornati sul mio canale per questa nuova serie quest'oggi incomincieremo Uncharted l'eredità perduta allora che è un DLC stand alone di Uncharted 4 vediamo un pochino nuova partita livello sfida sempre medio non esageriamo agganciamento mira no visuale assistita no lasciamo tutto così e vediamo un po cosa succede nuovi dati certamente ok un altro tipo di moneta con dei pesci non so assolutamente niente sono rimasto spoiler free da quando è uscito quando non voglio spoilerarmi una cosa io ci riesco e vediamo un pochino sarà un bel caricamento la mia povera ps4 normale ormai non ce la fa più ok vediamo un po cosa ci aspetta sembra l'india dalla musica vediamo un pochino non mi ha messo i sottotitoli spero di sì vediamo un pochino eh no allora opzioni sottotitoli sottotitoli sì eccoci qua chloe aiuto non mi ricordavo avessero una voce così profonda già cercando di fare affari da piccola non mi ricordavo avessero è british coraggioso non mi ricordavo avessero 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 fastidiosa e mezzo allora la foto è stata salvata premi per guardare il tuo telefono ok cosa devo fare da dove passo da qua sembra di sì dai cerchiamo di raggiungere cosa fa le ha rubato ok sei finito di derubarmi grazie ho trovato un tesoro ho sbagliato ho sbagliato statuetta ganesh ok va bene avviciniamoci al camion prima che vada via non so se sia a tempo oppure no di qua giusto sì sembra ok ma non mi serve un posto non mi ricordavo ho bisogno di andare in questo truco una buona idea sono rebeli che ha giocato la gente ascoltare ho bisogno ho bisogno di aiutare a mio amico ok te lo dico quando mi arrivo le pizza sono a me ok 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 ci aiuta quindi corre 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 prima che parta sbrigati sbrigati ok ce l'abbiamo fatta non salutare che mi fai scoprire eccoci qua uncharted l'eredità perduta vediamo un pochino non dovrebbe durare neanche tantissimo sarà una miniserie all'ortra vediamo un montantino eccessivo ok eccoci qua Devo trovare una porta rossa quindi Perfetto Non ci sono altre foto Posso zoomare però Va bene Porta rossa con una valigia Capitolo 1 La ribellione Vero? Cerchiamo che in giro perché ci sono tesori eh Vorrei entrare nel mood uncharted Qua si può salire Vediamo un pochino cosa troviamo No stiamo facendo zig zag Va bene Non posso sprintare in nessun modo Quindi andiamo a sinistra Ok Presumo che io non debba farmi beccare da quello no? Oppure si Ok io vado via Va bene Merda Di qua? Non so più dove andare Però non mi hanno detto nulla Cioè mi hanno lasciato andare senza problemi Mi aspettavo un dove stai andando Cos'è questo rumore? Una scimmia Ok Dove siamo? Mi sa che non ho scelta In che senso? Siamo tornati nella stradina E' un po' un labirinto questo posto Vediamo un pochino Proviamo avvicinarci Vediamo se ci danno Ok Quindi no Devo passare di qua Ecco qua Vuole perquisirmi Che maniaco Aia 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 Azzav Ok Siamo stati salvati Meno male Che culo Addirittura Sei nato o sta eh Ok Gente che scappa L3 Eccola lì la porta rossa Devo solamente trovare un modo per arrivarci adesso E qua direi proprio di no Sai che mi tocca fare il giro Da qui per forza Anche perché è super guidata questa parte Minchia è un rato gigante Ok Pensavo fosse un piccolo cieco Ma in realtà no Dovremmo essere vicini? Mi aspetto un'aggressione a breve però Ok si incomincia lo stealth eh Va bene Vieni qua Ti metto a K.O. subito Attacco fortivo Bella cazzuta lei eh Allora Io direi di atterrare anche lui Ma l'ha proprio ucciso Bene Attenzione Attenzione Poi io esploro eh Sta piovendo di nuovo Ok io mi sbrigerei va bene Ah Devo scassinare le porte Ma sta scherzando Mantieni per scassinare Ok 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 Perfetto Merda Ok Abbiamo fatto Bella questa Questa cosa nuova Ok Nel tetto Pink lotus Pink lotus Ok Un fior di lotta rosa Oh Attenzione Per arrampicarmi Ok Facciamo attenzione Qua mi sembra A posto di tesoro Allora posso salire Anche di qua Ah no Posso andare solo Di qua ok Bene Allora Arrampicati Grazie Di qua Aiuto Oh oh Cavolo Dobbiamo fare attenzione No Di già Mi hanno già scoperto Ho già fallito lo stealth Eh vabbè abbiamo giocato all'altro Sappiamo già come muoverci Va bene Questa sembra la zona dove andare Dato che è illuminata Vediamo di qua Prima di muoverci Che magari c'è qualcosina Da sgraffignare Non sembra esserci niente Perché ha detto What's in here Cerchiamo bene Aiuto Che paura Si può aprire questa? No Non c'è nulla Va bene Va bene Allora saliamo Siamo già arrivati al tetto Sembra di sì Aiuto Mi abbasso un po' il volume Delle cuffie Wow Aiuto Che paura Da quanto pare Bene Quello è un tesoro Quanti ne avrò già persi Vediamo Ah no Porta sigarette in argento Sterling Bello Bene Possiamo proseguire Direi che Dobbiamo salire sulla scala No È illuminata Ci mostra la via Ok Adesso Beh Ok Abbiamo trovato Nuovo turno Niente Niente Eh Sono arrivato Oh oh Ok Ahia Ahia Uh ci aiuta Nadine Ah ma è Nadine Di Uncharted 4 La mercenaria Mi sa Mi sa Non amano anch'io Perché mi hai salvato una volta Uh bella combo Sì è lei Ma è prima o dopo Uncharted 4 Forse è prima Cosa Non lo so Non lo so Non lo so No lo so Dove Non lo so Ne Siamo in un momento, sarebbe bello che prendere le rischi non necessari. Siamo? Ci siamo un'altra cosa, questo è il mio giugno. Chiedi la vostra parte? Noi, giociamo con le mie regole. Cosa sarà? È il primo con il pezzo. È il spirito. Addirittura Perfetto Capitolo 2 Infiltrazione Possiamo scendere di qua Non sembra Di qua direi proprio di no O di qua Ok lo prendo come un no Pensavo di avere più libertà Va bene Decisamente no Ok Fai passare grazie Che mi hai bloccato Vai Non così contenta eh Vai abbassami la scala Perfetto Non mi sembra molto stabile questa scala Sbrighiamoci Ok Si va di qua eh Oppla Eh Com'è E ora Da qua no Non ce la fa di qua Nel tubo Ok si No 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 ferma Fermo ferma ferma Devi saltare di qua Ok Che paura E adesso? Direi di non lanciarci là Di qua eh Ok Sperando non si rompa niente Eh vabbè dobbiamo fare il giro Ma come ti permetti Ma come ti permetti Ok Funi via Si scendono Sfrutta l'erba Per nasconderti dai nemici Sì Guarda il movimento Eh ho visto che si può tirare Questa cosa no? Oh un tesoro Accendino a benzina militare Vedete abbiamo già perso un tesoro Purtroppo è così Di qua no? Io faccio del mio meglio per trovarli ma È un casino Li nasconderò bene Se no non sarebbero tesori Ok Vabbè dobbiamo fare il giro no? Di qua direi Non fare la spiritosa Oh Non è la zona dove dobbiamo andare? Dove siamo? Ah si devo spingere questo Eh Per favore Ok lo spingo qua giù e salgo lì sopra no? Oh oh Non è andata come pensavo Però Però ha funzionato Va bene Vabbè siamo dove dobbiamo essere Opla Di qua? Sì Coraggiose però A salire in queste cose Un po' Un po' distrutte Vediamo che cosa c'è di qua Che sembra la strada giusta Quella Ok un altro tesoro Calamaio da viaggio Ne abbiamo perso un altro ancora Va bene Vabbè recopriamo tutti quelli che riusciamo a recuperare Ormai Sono andati Non mi aspettavo di Di trovarne così tanti No devo andare di qua no? Sì Scusate Quei rumori è bruttissimo Siamo un po' zitti Ce la fai con un salto? Che paura Pensavo non ci riuscisse Ok noi lo eliminiamo Ciao Morto Ok ora Ci possiamo appendere No Dobbiamo andare di qua Il suo silenzio Mi dice che lei pensa Il contrario Ok Eccoci qua Andiamo Sempre a tre Uno Dai ma Era per non fare chiasso Ma Sembra un negozio di anticoariato Sembra che ci sia anche una roba molto interessante Un bel po' Questa? Ma una corona Dobbiamo trovare un disco A quanto pare Questo invece Ok Shiva Poi c'è un tesorino Vediamo un piccolo souvenir Dilettante della caccia Presumo ai tesori Bussola tattica Vabbè Non è proprio un tesoro Con tutto quello che c'è Avrei potuto impegnarti di più Allora Vediamo se c'è qualcos'altro Marcia lavorio Ok Questo Va bene Vediamo Nella scrivania Se troviamo qualcosa Non sembra Dove si va? Perché lei sta cercando di là? Dove possiamo cercare Ok Va bene La posso aprire O la devi scassinare Anche quella Con un cazzotto Ok Uno Due E tre Eccoci qua Hai visto? O O O O O O O Nadine Ross What a pleasant surprise Ah ah careful brothers This tiger's got claws Hmm So Oh all these years And you haven't aged A day You too can't Are you looking for work I hear that shorelines And a new management Temporary setback Nothing I can't handle Of course Ok quindi è dopo My men and I could use someone of your caliber Why are you here I mean this This isn't your area of expertise It is a nice collection I must say Chloe Fraser Collector of antiquities A thief Hmm You're working for a thief Sir We have a situation Ah yeah The disc Oh right About that At first I mistook you for just An average Rebel Oh But you have managed to find The Hoysala Empire That's not bad Their greatest treasure The task of Ganesh Now that's not an easy buy What are you doing? Three persian invasion Three separate wars And all these years later No one has found it We're close You're lost And the only chance you have Of even narrowing down Its location Is to find someone Who can help you Ok ci vogliamo Alleare This artifact Someone with an extensive knowledge Of who is a society Eh Exactly An expert In their culture And history Spero che non ci ammazzino Dopo averle aiutati A parasite Who exploits our struggle In order to fatten her pockets Hmm So that's a no Don't like a no You've got balls I like that But I don't need any more So-called experts Ok , my truth is Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Pazzista Come on We need to get across the river Così è l'improvviso. Mi stavo guardando la cazzo. Alta. Per fare scena. Ok, zigzag. Dove 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 dove. Dove devo andare? Boh, ce lo dici tu. Mi stanno praticamente ammazzando Abbiamo rischiato di morire Già No Non abbiamo delle armi Purtroppo direi anche Se non le avremmo potute eliminare Ecco qua Ecco qua Ok Direi che ci ha già salvato Certo certo C'era bisogno Attenzione Direi di andare di qua no? Per la strada giusta Intanto volavate a buttarci già nel fiume Perché non ci lasciate andare da soli Anzi da sole Ci arriva Che culo Allora abbiamo pensato di essere morto Ok E ora? Di qua? Direi di sì Uno Due Ok Ho il cavo che ci vado Troppo guadagnato Ok 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 Sì, sì. E me lo fa risolvere? C'è riuscita? È una chiave. C'è un tipo di chè? 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 Non c'è un lavoro. Non c'è un problema, Frazer. Si, beh... Tu sei la mia papà per questo hindu mitzvà. Mi ha scoperto? Si deve essere orgoglioso. Il sole è quasi. Vi salto a faremo. Buon lavoro. Sì. Che spirituosa. Perchè? Ok. Ci fanno giocare? Va bene, arrivo. Dove si trova? Ok. Va bene ragazzi, io direi di chiudere questo episodio qua. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua, sul mio canale. Ciao a tutti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video.